consiglio di eseguire il rituale, poi fate quello che volete lo facciamo, lo facciamo dai va bene, hanno paura speriamoci morti fortuna torniamo a 105 e te lo diciamo va bene, se finite con il disco messo molto alto in classifica questa settimana vorrà dire grazie alla tua idea ricordatevi del brigante che vi ha fatto cambiare di abiti proprio in questa trasmissione allora lo facciamo? si proviamo allora per quelli che stanno chiaramente ascoltando la radio non è che capiscono molto però Ben GFD in questo momento hanno accettato di eseguire il rituale quello che facciamo io e Davide Livraghi ogni tanto c'è di cambiarsi a vicenda i vestiti t-shirt con camicia vedo che a tatuaggi siete giovani ma siete anche già messi bene cioè la passione del tatuaggio è già abbastanza partita qualcuno fa un video bene così faremo poi vedere a tutti che realmente i ragazzi hanno cambiato abito sento già nello studio l'energia che sta cambiando sento già un lunedì positivo e una grande settimana in arrivo Benji sai Benji che stai da Dio con la camicia di Fede è proprio una barra camicia infatti non avresti dovuto metterla tu oggi guarda io sono felice perché questa me la tengo è proprio una ruby no la tengo grazie a tutti grazie a tutti